La notizia è incredibile, un attacco frontale ai media, soprattutto a Telequattro e a Ring, redazione Telequattro che fa uno straordinario lavoro per il bene della città. Attaccare la libertà di stampa credo che sia una cosa indifendibile nel 2016, quindi tutta la solidarietà agli organi di stampa attaccati, in particolare a Telequattro e a tutte le persone che ogni giorno si impegnano per fare il lavoro a Trieste. Non ho veramente parole, chi arrivino da destra o da sinistra queste polemiche oltre ad essere sterili sono stupide e non hanno alcun senso. Forza Telequattro, Forza Ring, andate avanti così. Buon lavoro!